Salve ragazzi, venuti a questo secondo episodio di Serae 3, la banda dei lageri Per evitare di fare ogni puntata una missione Faccio... facciamo così Faccio... Due missioni per l'episodio Quindi, eh? Bene, la prima che devo fare è... Foto di Ottavio Sì, devi far arrivarci Intanto rilombo le monete Hai raccocato, via! Aiuto! E dai! Dai, dai! Puoi farcela! La maschera li tira addosso Mancato Che l'ulta... che mi è del cazzo che ho Olè! Andiamo, vado alla missione Prima che mi ammazza Capire, qua... che sono arrivato Allora, prima delle missioni Vabbè... Vabbè... Allora, potrei poterlo... Allora, potrei poterlo... Allora, potrei poterlo... Sempre così pronta ad aiutare l'ispettore Fox? Sì, beh... Lei è diversa Sai, di solito i tutori dell'ordine Non sono così... Attraenti Aspetta, sta arrivando Si pregevole Vaglio una foto prima che finisca È perfetto Usa il vinocon per scattargli delle foto Ciiiis Ottimo! Un altro po' di queste E gli spirri lo sbatteranno dentro Seguilo! Potrebbe andare ad inquinare un'altra zona Adesso lo buco di voi Da quel fine Sero ammazzo Quello è d'Ottavio Alla, è lì Il pericino Il pericino Il pericino È guarda guarda, guarda, oh, un po' di imponevolenza un attimo, venga, anche lì ahia, mi ha scoperto vabbè, ci facciamo ah, meglio Siss ahahah un cattolaggio continuare così Sly, stai facendo un buon lavoro Eh, su ce.. su… easy l'omm T25 delle spieologne ed caso c'è questo in mezzo guardate, dove questo qui, lo segood neanche e stare chi un ould boss direbbe molto accolto, no awww voleva andare avanti un'altra volta con le casche piene! ah no! Vabbè. Allora, pazzo. Ciao! Sto a te nelle ore. C'è se... Ma non si sente. Vabbè. Mi devono fare un giro della madonna che mi vogliono spezzare. Allora, un po'. Ragazzi, ci siamo. Dove va? Sparito. Allora, eccolo. Sì, mostruoso. Vabbè, mostruoso. Vabbè, voglio fare una bella foto. Sì, sì. Sì, non è un documentario, questo però. Beh, non mi viene beccato. Non ho un'ombra, eh? Stupidi. Ai miei tempi i ladri sapevano me non farsi scoprire. Eh, lo so che... Lo so, ma se te... Si fa... Vai a mettere in direzione... E lo si... E io posso evitarlo, secondo me come cacchio... Non vi faccio vedere. Vabbè. 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 Come, come, va tutti a libro. No... Ma siamo assunti a... un PennoneLife sta manovrando la leva ma non c'è catrame qui per ora scatto la foto lo stesso quel cavolo pazzo ma difficile e allora sta facendo qualcosa ma cosa io non posso crederci ha inondato l'acquario di catrame tutti quei poveri pesci morti ho paura di scoprire che crimine atroce commetterà adesso quel demonio ma devi stargli alle costole grazie alle tue foto un giorno la gente saprà la verità poveri pesci morti poverini che cruder sta vero così non mostro l'ottavio si sono io passami l'ingegnere al telefono sly vedi se puoi attaccarti all'auto di otavio è detto facile che a intercettare la conversazione a giudicare dalla sua faccia sembra importante a parte che la faccia sarà sempre così ascolta giovanni questa ruota panoramica è stata una buona idea pompa in fretta il catrame e nessuno sospetta niente ma sarà abbastanza perché tutto sia pronto in tempo per lo spettacolo bene quando la gente viene a sentirmi cantare voglio essere sicuro che ritornino anche se non gli è piaciuto in un modo o nell'altro ci saranno di nuovo fan della lirica ok a presto che demonio ha trasformato un innocente giro in giostra in uno strumento di malvagità apri il pannello di controllo con il tuo bastone sto arrivando a rifare l'impianto a meno tu fa qualcosa guarda da un'altra parte se devi stai per vedere il lato oscuro dell'ingegneria elettrica ci cuciterà un numero di poveri pesci innocenti così va bene ragazzi fate divertirsi onda suota vai guarda qui guarda qui come se è andato a gambe bene ragazzi è l'ho completato purtroppo il video che non è previsto quindi mi cerca di fare per forza una missione per l'episodio quindi al prossimo episodio di sarai tu grazie a tutti